Ciao ragazzi, io sono Andri e vi do il benvenuto in questa nuova trailer reaction. Oggi è uscito il trailer di Raya l'ultimo drago, uno dei prossimi film Disney in uscita nel marzo 2021, se non viene rimandato naturalmente. Ieri era uscito un nuovo poster che appunto annunciava l'uscita di questo trailer, oggi, e finalmente eccolo qui. Sono abbastanza curioso quindi direi subito di partire con la reaction. Mi piace così. L'animaletto non manca mai. Psst, tuk tuk, concentrati. Quella zampa? Ti giro io. Ah! Ah! Da quando sono nata mi addestro per diventare guardiana della Gemma del Draco Ma il mondo è cambiato E i popoli sono divisi Ora per ristabilire la pace È un po' cresciuto l'animale L'ultimo Drago Il mio nome è Raya Sei troppo grande per questo giochetto Allora questo trailer vi dico subito quello che ho pensato già dai primissimi secondi Mulan Allora non so ancora se sarà naturalmente un film bello Mi aspettavo di sapere magari qualcosa in più in questo trailer Però non ci hanno detto niente anche perché un teaser anzi un teaser di due minuti ci sta abbondantemente Sì beh mi ha un po' incuriosito ma ancora non sappiamo nulla Ci sono tutti i presupposti per essere un buon film ma anche no Mi aspetto magari nei prossimi giorni di vedere qualche scena qualche altro trailer per capirne un po' di più Questo personaggio sicuramente sarà una delle prossime principesse originali Disney E ho visto tantissimo lo stile sia di Oceania che di Frozen Infatti è stato detto anche nel trailer che sono gli stessi creatori Voglio tantissimo vedere come tratteranno le leggende cinesi e soprattutto la leggenda dei draghi E nient'altro sono molto curioso di vedere questo Raya e l'ultimo drago Fatemi sapere con un commento qui sotto se aspettate questo film Fatemi sapere anche se questo trailer vi è piaciuto Lasciate un like, iscrivetevi se non siete iscritti Attivate la campanella, seguitemi su Instagram se volete Trovate il link giù nella descrizione E niente io sono Andri Questo è stato un altro mio pensiero per voi Noi ci vediamo in un prossimo video sempre sul mio canale Andri passa e chiude Ciao Noi ci vediamo in un prossimo video